Un tempo alzavamo lo sguardo al cielo, sentendoci parte del firmamento. Ora lo abbassiamo preoccupati, intrappolati nel fango. Avvio motore principale. Meno dieci secondi. Dobbiamo affrontare la realtà. Non c'è niente nel nostro sistema solare che possa aiutarci. Nove. Ho dei figli, professore. Per quanto starei lontano? Otto. Ti sto chiedendo di fidarti di me. Sette. Marf, mi devi parlare. Sei. Devo sistemare tutto prima di partire. Non sai nemmeno quando tornerai. Cinque. Accensione motore principale. Non potevi dirle che devi salvare il mondo? No. Quattro. Quando diventi genitore. Tre. Una cosa ti è molto chiara. Due. Vuoi che i tuoi figli si sentano al sicuro? Uno. Io tornerò. Quando? Ti voglio bene per sempre. Mondi vicini potenzialmente abitabili. Potremmo salvarci dall'estinzione? Si parte. Non pensare solo alla tua famiglia. Devi pensare in grande. Penso alla mia famiglia e a milioni di altre famiglie. Forse abbiamo passato troppo tempo cercando di risolvere tutto con la teoria. L'amore è l'unica cosa che trascende il tempo e lo spazio. Non andartene docile in quella buona notte. I vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno. in furia, in furia contro il morire della luce. Non ce la faccio! Sì, vedi. Troveremo una soluzione. L'abbiamo sempre fatto. L'abbiamo sempre fatto.